Cozema oggi compie 15 anni quest'anno, siamo partiti nel 2005 e abbiamo ottenuto per primi la certificazione 13432 sulle nostre posate in Mater B e quest'anno presentiamo un nuovo impianto produttivo, andiamo a raddoppiare la nostra produzione e andiamo a migliorare addirittura la qualità dei nostri prodotti, abbiamo applicato delle tecnologie di ultima generazione per la realizzazione dei prossimi prodotti che Cozema presenterà.